Il fatidico giorno è arrivato, oggi vi parlerò del mitico trago spintail fishing and biodiversity custom color Ecco la sorpresa che volevo farvi vedere da tanti mesi ma purtroppo non c'ero riuscito perché con il covid ci sono stati rallentamenti Un colore che la Molix ha prodotto proprio per imitare il ghiuzzo del mio logo che se non ve lo ricordate è questo qua Non è esattamente così perché ci sono sfumature di azzurro e blu e quest'esca lo imita perfettamente È stata una cosa bellissima per me avere un'esca personalizzata, infatti devo ringraziare la Molix per aver creduto in questo progetto Guardatela quanto è bella, quanto è rifinita dei dettagli Il trago spintail come sapete è un'esca che ho utilizzato tantissimo nell'ultimo periodo Ci ho preso di tutto tra cui il siluro gigante a Firenze ma anche la spigola, il barbo e tanti cavedani soprattutto in quest'ultimo periodo E quest'esca voglio regalarvela, voglio regalare le due taglie di trago spintail fishing and biodiversity limited edition A chi partecipa al giveaway che sto per fare, sono due taglie 7 e 14 grammi e per partecipare dovete mettere like al post che metterò oggi alle ore 14 su Instagram Dovete seguire la mia pagina, la pagina di Molix, dovete commentare sotto al post e condividere questo post nelle vostre storie taggandomi Il giveaway sarà attivo da oggi 20 maggio alle ore 16 a domenica 23 maggio in cui decreterò i 10 vincitori che saranno estratti casualmente Che vinceranno le due taglie 7 e 14 grammi Questo colore secondo me è l'ideale per la pesca in mare perché imita perfettamente un pesce foraggio ed è anche spaziale nelle acque interne Tra l'altro ci ho preso una cattura secondo me epica che vi farò vedere nel prossimo video, vi ho tenuto nascosto per un po' di tempo ma per l'occasione ve la farò vedere Quest'esca sarà disponibile a brevissimo anche negli store online quindi se non siete i fortunati che vinceranno il giveaway potrete comunque acquistarla tramite gli store online Questo voleva essere un ringraziamento per i 100.000 iscritti ormai siamo 108.000 e mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi al canale come sempre E verranno nuove sorprese e noi ci rivediamo come sempre alla prossima, ciao! Eccolo! Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì per questo traghetto fantastico